E tu questi non sembrano tutti ben accettati. Forse non hanno un tempo e per quelicolo che solo. Non sai che sono gli accessori a fare la differenza. Notizie di Anania. Ha detto che ti avrebbe attesa la statua nella piazza del Mercase. Ha scelto un luogo tranquillo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.